non ce l'ho apprezzo Sì, sì. Sì. Adizio, c'è anche la fantascienza. Perché lei che ha superpodere. Lei è tipo Superman, ha superpodere, cioè, mette un raggio di luce dalla mano con una stereolettrica che uccide l'oggetto. Non lo so, ma io capisco, però fa anche questa cosa. Non lo so, ma io capisco. Non lo so, ma io capisco. Figlio di puttana. Ma io capisco. Ma io capisco. Ma io capisco. Se vogliamo portare qualunque cosa, dobbiamo portare adesso. 20 minuti chiude tutto. Sì. Ma le birri... Sì. No. No. Grazie.